Vosca Accademia Culinarna, come i maccheroni adesso possono fare rischi e tunci kriomare? Facciamo, otteriamo la nostra panna di tunci kriomare, dodiamo in misce, dodiamo anche ugotovane rischi, cerni oliwi, pietrusca, troche sossoiove, ocet rizzove e sussane pomidori. E mixo, mixo, mixo! Dopo che abbiamo una buona consistenza, possiamo formare una buona culecchia. E ush gotove, possiamo ticco decorovacce nasce ulubione sossov. Ja, lubie, maio sriraccia, itesce, classicne sos sriraccia, lubie, ostre. E queste troche decorazze, colendra, scipiorec, ciò colviec. E gotove, super proste, i watfe, iak zafsche. Fagne pomis na uživagna dobre tunci kriomare. Buonissimo, ciao!